Il progetto di proseguimento dell'Interquartieri fino a Gimarra approvato in Consiglio Comunale crea eco e dissenso da parte delle forze politiche di opposizione. Per il Movimento 5 Stelle la delibera approvata in Consiglio provoca uno scempio ambientale nella zona dell'Arzilla e sulle colline del Carmine senza risolvere i problemi strutturali del traffico di Fano. I 20 milioni di euro stanziati dalla regione dicono non sono altro che uno sperpero della giunta comunale. Come vi muoverete voi del Movimento sul fronte della delibera appunto dell'Interquartieri di Gimarra? Innanzitutto prima del Consiglio avevo fatto una lettera aperta indirizzata ai sindaci del nostro territorio che vedranno il percorso di questa strada, insomma riguardarli e al Presidente della regione per chiedere di rinviare l'approvazione di questa delibera a dopo le elezioni regionali perché è ancora tutto in forze e di aspettare l'insediamento della nuova giunta. Purtroppo non ho avuto nessuna risposta positiva, anzi in Consiglio Comunale il Sindaco Seri ha ribadito che anche lui avrebbe preferito portare la delibera sia in giunta che in Consiglio dopo questo momento però alla fine non mi risulta che si sia mosso in questa direzione. Che cosa faremo quindi oggi visto che la delibera purtroppo è passata perché la maggioranza in maniera compatta a parte un consigliere l'hanno tutta votata a favore? Ci muoveremo chiedendo quando saremo in Consiglio regionale una rivisitazione di quel famoso protocollo e vincolarlo alla realizzazione di una strada così come il Cipe la pretendeva cioè di collegamento tra Fano e Pesaro mentre questa è una strada monca che ci porterà di nuovo a Gimarra praticamente sbancando una delle colline più belle della nostra città senza risolvere minimamente neanche il problema del traffico cittadino perché ricordiamo che tutto il tratto di Fano Sud, Torrette, Ponte Sasso e Marotta non verrà messo in sicurezza cosa che invece nel nostro progetto c'era. I grillini sono determinati, si impegnano da subito per rivedere la destinazione delle risorse che anche secondo il candidato presidente pentastellato Gian Mario Mercorelli le risorse sono state distolte dal loro scopo originario per un'opera non solo utile ma dannosa per il territorio. Quei 20 milioni osserva sono un importo storico per la terza città delle Marche e dovevano servire come richiesto dal Comitato interministeriale per la programmazione economica per un reale collegamento tra Fano e Pesaro del tutto alternativo alla statale adriatica. La prima cosa da fare, dichiara il candidato del Movimento sarà mettere in mano la convenzione tra regione e comune di Fano per assicurare che le risorse destinate vengano messe al servizio di un'opera strategica che deve inserirsi in un ragionamento territoriale di più ampio respiro.